Buongiorno e buonasera a tutti, bentornati sul mio canale, siamo qui proprio appena appena finito il sorteggio dei quarti di finale della Champions League Mamma mia, primo sorteggio, Ajax, dico non Juve, per favore non la Juve, Juventus, porca miseria Non perché l'Ajax sia la squadra più forte del mondo, però abbiamo visto come gioca, e questi giocano, l'Atletico non gioca, l'Ajax gioca purtroppo Comunque sarà una bella, bella sfida all'andata 9 o 10 aprile ad Amsterdam e 17-18 aprile, 16-17 aprile adesso non mi ricordo bene A Torino, sarà una bella, bella sfida, quindi qui c'è molta più probabilità di uscire per la Juve Perché l'Ajax, se gioca come ha giocato con il Real Madrid, è finita Però sarà una bella sfida, perché sono bravissimi a giocare, quindi almeno sarà molto spettacolare come partita Poi andiamo a vedere gli altri, Liverpool-Porto, a Liverpool è andata non bene, di più Gioca la prima in casa, con il Porto, l'anno scorso ne hanno dati 5 in una partita Poi magari passa il Porto, col fondo schiena che hanno, però penso che Liverpool è già in semifinale Tottenham City, questo è un bel derby, veramente una bella partita Forse la partita più bella, perché comunque per come giocano, per le mentalità che hanno, sarà una bella partita E poi Barcellona-Manchester United, che forse sarà Manchester United-Barcellona Anche se è stato sorteggiato prima di Barcellona, perché il City gioca la prima fuori casa Quindi la seconda in casa, non possono giocare Manchester United e Manchester City Anche un giorno dopo l'altro in casa, tutte e due, non sarebbe possibile Quindi penso che sarà la prima a Manchester e la seconda a Barcellona Anche questa è una bellissima sfida Sulla carta il Barcellona è già in semifinale Però lo United abbiamo visto come gioca Adesso con Solskjaer, che era un gran giocatore Anche sembrerebbe un grande allenatore Quindi belli accoppiamenti per i quarti di finale Scusate, anche la location, ma non sono al lavoro Non sto rubando niente a nessuno, l'attività è mia Quindi sono chiuso tranquillamente A parte che cosa me ne frega Però, vabbè Quindi, Ajax Juve Liverpool Porto Tottenham City e Barcellona Manchester United Ovviamente otto squadre sono forti A parte il Porto, che è la squadra sorpresa E l'Ajax è la squadra sorpresa, ma è una bella squadra Quindi è molto forte Ed è per questo che mi preoccupa molto Ecco, diciamo che sono preoccupato per quello Comunque, comunque Basta, finita qui Adesso dovrebbero fare anche i sorteggi di Europa League Ma non me ne frega niente Perché tanto c'è il Napoli Ma perde e vince Sinceramente, da Juventino non me ne importa più di tanto Se vince bravi loro Se non vince non me ne frega niente Cioè non è che sto lì a gufare Ma neanche tifarli Tifavo la Roma in Champions Perché è la Champions, ovviamente Europa League Oh, se la vince un'italiana Tanta roba Quindi Se dovesse vincere il Napoli Complimenti a loro E sarebbe un bello spot per il calcio italiano Comunque, giustamente Comunque, non farò il post Sorteggi dell'Europa League Anche perché adesso sto mangiando C'ho qui il piatto che freme Comunque Basta, ci vediamo in un prossimo video Che sarà forse un post partita Forse una live Un gameplay Qualcosa Qualche vlog Non lo so Vediamo Il mio canale è così A sorpresa Iscrivetevi al canale se volete Se non volete Chi se ne frega Lasciate un like O lasciate un dislike Quello che volete Non lasciate niente Fate un cavolo Cioè Fate quello che volete Importante che vi iscrivete a Twitch Canale Twitch Che troverete In descrizione Scusate E nel primo commento E almeno lì ci facciamo qualche live Faccio le live Su FIFA Su qualche gioco Facciamo le live reaction In Champions Dalla Juve E basta Buona giornata a tutti E basta Ciao a tutti